Tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Benazix e oggi siamo qui con Alessandro e Alessio, anche chiamato Beneventano24 su YouTube. Oggi siamo qui per giocare a Tiki Tikatù, Tika Tiki Takatù e come si chiama lui? Oggi siamo qui per fare un triangolare, vedremo chi vincerà. E inizio io contro Alessio Beneventano24. Allora io inizio Salernitana, Atalanta e Ederson. Ma la città ne ruba le ruba? No. Non te ne. Ora, Ale, vai. Scrivo io. Toro Salernitana, Simone Verdi. Ci sta. Poi, io metto Roma, Atalanta, Mancini. Come si chiama Gianluca? Gianluca. Gianluca. Devi trovare un buon ancho. Non è quello che gioca la Roma? Si. Tu non si chiama Gianluca? Si chiama Gianluca, bro. Gianluca. Si, si. Poi anche scrivi un altro. Quattro. Quattro. Non penso che probabilmente ha giocato la Roma. Però, Roma-Lazio, ti voglio mettere Kolarov. Come? Io metto Atalanta-Polonia. Non so se ha giocato, eh. Ma Linetti. Eh, mi era venuto. Mi era venuto, cittadino. Mi era venuto. Metto Atalanta-Polonia. Ma ha giocato la Lazio-Polonia. Guardi, Patrice. Si. Pologna-Atalanta. Non ce l'ho. Però Linetti. Aspetta io. Quell'idea. Non lo so. Mi ispira a dire Kubica. Kubica-Torino. Anzi no. Anzi no. Dici Torino-Polacco-Kamil-Glik. Glick. Scusa ma... Kupemainerz non è polacco. No. Ora Roma-Torino. Roma-Torino. Sarabia no. Roma-Torino. Galli. Gallo-Bello. Ce l'ho a dire bravo. Questa è bella partita. Non lo sapremo. Non lo sapremo tutto su quell'Atalanta-Polonia. Mi dico Kubica su Atalanta. Cosa? Mi spingio a dire. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Kubica. Atalanta-Polonia. Glick. Non c'è giocata. Ce l'ho. Ce l'hai. Ce l'hai. Punta a testa. Ora sfida. Io contro Alessandro. Allora. Allora. Un attimo. Mi pare Stefano. 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 Devo puntare un'altra. È ovvio che non punta un'altra. Buona sfida. Non credo. Comunque è la provvedella. Lazio? Spezia provvedella. Cazzo, devo mettere qua se mi fai drissi. Lazio, Brasile. C'è nessuno. Questo Brasile è tranquillo. No, è domenica della viola. Ma questa è a Romania. Sì. Sta scritto Row. Cioè, non saprei Lazio Brasile. Ma l'ha fatto una, Alessandro? Ah, sì, mi è venuto. Mi è venuto, a me sì. Lazio, Brasile. Sì. Sì. E lo devo mettere qua se non... Eh. Lui. Però se non ce l'hai, può anche schippare. Se non ce l'hai. Ah, sì. C'è nulla da fare. La via. Filippo. Io c'avevo Luca Sleiga. Monza, monza romanino. Chi? Adesso, comunque, come fa? Felipe Mero. Ah, giocatore. Sì. Spezia monza. Udinese romanino. Udinese romanino. Oddio. Ce l'ho ancora visto. Udinese romanino. Ma ok. Credo... Ma... Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è Brasile Monza. Pezzi, Udinese. Brasile Monza, ti sa. No, ce l'ho a Brasile Monza. Ah, che è rossa questo. Scusate gli applausi. Vai, adesso. Adesso. Vai, Brasile Udinese. Spesso. Spesso, bro. Fra, non sai... Non sai... Non sai Brasile. Aspetta, posso dire... No, no, Ale. Aspetta, aspetta. Scusate. Eh, sì, già. Do sta. Ecco. Io ce l'ho pure Wallace. 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 Spesso e ho zunice. Che ti serve? Non so spezia. Ma proprio non lo so. Ma è un po' difficile. Vabbè andiamo in pareggio e facciamo la prossima. Troppo di tempo. È un po' difficile. No, Andrea. Non è pareggio. Uno a uno. Io sono passato i turni. Dovete fare voi due. Alessandro. Spero che ne venga uno o due. Vado in finale. Allora. Vado io? Non so io. Allora. Non so io. Allora. Allora. Arromalazzo coloro. Cazzo. Alex, tocca a te. Lo so. Ah, fa' ci. Non so tu. Tocca ma. Ah, non so. Tocca ma. Ah, che. Sì sì. No. Atalanta Roma. Atalanta Roma. Francia Atalanta. Francia Atalanta. Cos'è un'altra cosa? Dai. Abbo sicuramente no. Non mi ricordo come si chiama. No, no, no. Voglio quindi... Abbo si sa. Che vuoi? Che hai fatto? No, no, no. Tocca a te. E non c'è nessuno. Come? Come non c'è nessuno? Ma non... Ma guppamini? Non c'è nessuno. Ragazzi, stai odiata. Aranta Roma. Allora, tu che promette? Lancini, gialluno. Messola. Lancini. Dai. Torni. Porta. Ma sta un po' qui. Roma. Nuovo, chissà. Devi abbeccare. Ma mancini, mica Atalanta Roma. Sì. Prova, si sta scritto là, sì. Che passate? L'Atalanta. Ah, è stato il suo migliore... La migliore stagione. Ho fatto poi l'Atalanta. Con Gasperini. Il primo anno dell'Atalanta in Europa lì. Ok. Ce l'ho tutte e due. C'è sia questa, Nigeria e Atalanta, che Nigeria e Atalanta Francia. Ce l'hai, mon salone. Devi pensare qui. Vabbè, vai, se non lo sai, schifo. Schifo tu, vai. Questo è il nigeriano. Sì. No, l'altro, ma mezzo nigeriano e mezzo inglese. Mi spaventano un duro. Che cosa è, Francesca? Che... Non lo sai. Se non lo sai, schifo. Dì, me. Tanto con cosa. Dì, me. Te lo confirmo, ancora. No, è sblocato. La fama. Vado. Chi è? Ma sei coglione. Che cosa è? Che cosa è, Buriano? Ah. E' un terzino. Rum Atalanta. Allora, ah, capito. Branno le sote. Allora, metterla Rum Atalanta. Branno Atalanta, li hai messo? Eh. Eh. Eh, noia. Non suggeri. Sono davvero scemo. Atalanta. Non suggerisimo. Atalanta. Oh, ti svegli. Ah, non ce l'ho. Eh. No. Che so. Perché? Mi chiamo. Se non lo sai, schifo. Vieni. No. Che sì. È bloccato. Poi ci si. Schifo. Ok, vado io. Eh, ce l'ho. Ce l'ha. Eh, ma poi ce le zuccheri. No, non glielo ho detto. Gli ho detto solo che era terzino. Ora, finale io contro Alessio. Tre parti. Vai. No, una. Ok. Romania Interradio. Ja, ma figo questo. Questo che è uscito. Senegallo. Senegallo. Santo. Io ce l'ho. Santo. È pure questa. Cioè, non è semplicissimo. Si scazzano. Inter Serbia. Ma chi è Inter Serbo? Una vita. Che è? Chi ce l'ha? Oh, eia. Servo otorino. Ah, ce l'ho. Parola, non ce l'ho. Ah. Cos'è scrive? Di raggiungo. No, mi inguicisciauci. Oh. Eh, come si scrive? Mi link. Deve scrivi mi link. Mi link. Mi. No, ma lo sai. Oh, vedi che dopo lo finisce il tempo. Le metti. Ecco. Vagno. Io metto Senegal, Samp, Balde. Che da balde. Ah, che da balde. Che da balde. Toro Senegal. Senegal Toro. Oppure Serbia. No, Serbia Inter. Ce l'ho. Bella piccina. No, vengono in mente. No, sencela fai. Skip. Skip. No, Samp. Samp Serbo. Oh. Un Samp Serbo. Samp Serbo. Gioric. Beh. No, Gioric con... Se lo scrivo io, non mi sei francazza. Qual è? Milan. Milan Gioric. No, è Filippo. Scusa, ma... Faccio così. Milan Dito. Filippo. Allora, Serbia Inter Stankovic. Dezion Stankovic. Dezion Stankovic. C'ho due possibilità. Sì, a Torino. Sì. No, è so perso. Ma adesso... È imbattito. Anzi, no. Ma c'è la... Sene, Gallo... Brazixi. Ah, Brazixi. Eh, eh. Sene, Gallini. Vabbè, che non sei la nese. Eh. Vittorano. Devo mettere che da balde. Sene, che non sei la nese. Galese. Balde. Che da balde. Ma che da balde. Che da balde. È messo già. È messo già. Rega, vinco io questo torneo. Vi saluto. Ciao, ciao.